Non è ancora una vera e propria ultima spiaggia, ma poco ci manca. Questa sera l'Alessandria punta ad un solo obiettivo, vincere. Subito in velocità con Gonzales, si fa vedere in avanti per il servito Bonino. Ancora Gonzales, carica il sinistro, Gonzales! Riesce quindi a servire con un numero, Bellomo in area di gore, Bellomo la mette in mezzo. Pabllo Gonzales, Nico Gonzales, sale la squadra di Stellini, ci prova col destro. L'argentino Casasola, è libero Bonino, è il limite del fuorigioco, la palla è buona per Bonino, Bonino, salta Liverani, Bonino! La mette dentro, ma è offside. Sul fondo, la mette in mezzo, palla a cercare Cori, ancora buona, tiene il Monza con Luca Giurici, bel numero, Giurici! E che gol, signori, Luca Giurici! 1-0 Monza! Casasola la mette in mezzo per Bonino, vicino poi Gonzales! Giurici poi perde il contrasto, ma palla ancora recuperata dal Monza, Guidetti subito di prima. Bella attenzione ora, il numero del Monza, palla, provata di tacco, la palla resta fuori ancora per Guidetti. Piede Alessandria, sale Gonzales, si smarcano Bellomo e Bonino, palla proprio per Bonino in area di rigore, Murato, intervento Bonino, buon movimento col corpo, Bonino in area, Bonino, Bonino, la palla è in mezzo! Ed è la rete, il pareggio dell'Alessandria con Tiago Casasola, 1-1! E con Delrico sulla fascia si è fatto vedere anche Tentardini, poi la conclusione dello stesso Andrea Delrico! Pallesi, il Seljak, il Croato la mette in mezzo, il traversone decisiva, la chiusura in corner di Riva. Delrico si smarca sulla sinistra, Tentardini la mette in mezzo, Tentardini ha provato la deviazione aerea giù di Civo. Ancora in attacco il Monza, ci prova con Adorni! E arriva adesso il triplice fischio, finisce 1-1. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti